Il rapper ha sorpreso Il rapper ha fatto emozionare i suoi fan con la proposta di matrimonio all'Arena di Verona. Seguendo la tradizione, il rapper si è inginocchiato davanti alla fashion blogger, gli ha chiesto la mano e gli ha infilato l'anello di fidanzamento. Prima della richiesta ufficiale, il cantante aveva riservato una dedica speciale alla modella, un brano scritto ad hoc per celebrare la loro storia d'amore, e che ha coinvolto anche il pubblico presente. L'Arena è stata inondata da un mare di cuori e Pederzzi ha esilito in Smoking con il brano Favorisca e Sentimenti. Nelle ultime ore il rapper ha pubblicato il video della proposta di matrimonio sul profilo YokoTuber. Il 28enne aveva anticipato nei giorni scorsi la pubblicazione del filmato con la canzone dedicata alla fidanzata in voce attesa. Il racconto parte dall'atterraggio all'aeroporto di Los Angeles, dove il giudice di Dieci Factor trova Chiara Ferragni ad attenderlo. Dedica speciale con Favorisca e Sentimenti La data è quella del 25 aprile 2017 ed il rapper mostra in anteprima una parte del testo della canzone preparata per la proposta di matrimonio, salto temporale al 6 maggio con il rapper appena giunto all'Arena di Verona per le prove. Nella circostanza Pederzzi inquadra l'anello, che poche ore dopo avrebbe donato all'amata, un amico sottolinea scherzosamente, figli di Pederzzi quando guarderete questo video ricordatevi che papà era un bravo ragazzo perché faceva le canzoni per la mamma, per il concerto a Verona. Il filmato si conclude con la notizia della gravidanza e le immagini dell'ecografia, che hanno fatto il giro del web, dopo essere stato pubblicato su Youtube, il video è diventato subito virale ed è stato visualizzato in poche ore da oltre 301.000 seguaci dell'artista. Matrimonio a noto in estate oltre 1.165 condivisioni anche su Facebook ed il like dell'amica Mara Maionchi a suggellare il nuovo boom del cantante milanese, da sottolineare che il video è stato pubblicato poche ore dopo che la coppia ha fatto trattelare data e luogo delle nozze. Secondo alcune indiscrezioni Fede Zecchiara Ferragni convoleranno a nozze a luglio, nella località siciliana di Noto per restare aggiornati sulle news di TV Gossip, cliccare sul tasto segui al lato della firma dell'autore dell'articolo. Grazie a tutti.